L'attore si è sposato per la quinta volta. È stata una cerimonia molto riservata e intima, la data è stata scelta in onore del compleanno del defunto padre dello sposo, ha fatto sapere il suo portavoce appena uscita la notizia delle nozze, che sono state celebrate lo scorso 16 febbraio al WYNN Hotel di Las Vegas. Un anno fa l'incontro e adesso il matrimonio, la sposa ha compiuto 26 anni a gennaio scorso e ha quattro anni in meno del primo genito del neomarito, che di anni ne ha 57. Lei ha origini giapponesi e ha conosciuto l'attore e premio Oscar un anno fa circa proprio in Giappone, Ashiga. Per via dell'emergenza sanitaria, per sei mesi non si sono visti e lui ad agosto scorso aveva parlato della loro relazione a distanza. In quella stessa occasione, durante lo show radiofonico del fratello Mark, aveva anche svelato di aver fatto la proposta di matrimonio alla giovane compagna tramite FaceTime e di averle fattore capitare l'anello di fidanzamento, un gioiello con un diamante nero, tramite Corriere. E pochi giorni fa Nicolas Cage ha sposato Rico Scivata. Una data non casuale quella del 16 febbraio. Come sottolineato dal portavoce dell'attore, August Coppola, fratello di Francis Ford e padre di Nicolas, era nato il 16 febbraio 1934. Per il matrimonio, la sposa ha indossato un kimono nuziale realizzato a Kyoto e Cage ha commentato la notizia a People con queste parole, è vero e siamo molto felici. Prima di Rico Scivata, Cage è stato sposato altre quattro volte, ma il figlio Weston è nato da una relazione antecedente ai suoi matrimoni con la modella Christina Fulton. Continua a leggere dopo le foto, nel 1995 Nicolas Cage ha sposato l'attrice Patricia Archette e da cui ha divorziato nel 2000, nel 2002 le nozze con Lisa Marie Presley, figlia di Elvis ed ex moglie di Michael Jackson, ma i due si sono lasciati dopo un mese e mezzo di matrimonio, per poi divorziare nel 2004. Nel 2004 Cage ha sposato la cameriera Alice Kim da cui ha il suo secondo figlio, Khalil, entrambi presenti alle quinte nozze di Cage con la schivata, NDR, e dalla quale si è separato nel gennaio 2016. Nel 2019 l'attore ha sposato, sempre a Las Vegas, la make-up artist per i cacoi che ma il matrimonio è durato soltanto quattro giorni. Pubblicato il 8 marzo 2021 alle ore 19, 51. Ultima modifica il 8 marzo 2021 alle ore 19, 51